Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo al comando sfc spazio slash scanno sul cmd ovviamente se dovete fare una verifica ai file e ripristinando così i file sul sistema per far funzionare questo sfc scanno dovete sempre ma sempre eseguire come amministratore il cmd prompt dei comandi esegui come amministratore alcuni comandi per metterli in atto vanno eseguiti come amministratore sul prompt dei comandi quindi se io adesso vado a scrivere sfc spazio slash scanno invio e mi farà così l'analisi del sistema ed ecco che funziona l'analisi dell'sfc spazio slash scanno quindi il problema si è risolto, bastava solamente eseguirlo come amministratore se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lascia like per altri problemi, commenta sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao